E' la cantante. Qualcuno ha ordinato un mango? E' un... Metti qui, ragazzino. Questa donna la riconosce? Lei... come si chiama? Lascia perdere il caso Hilton. L'accusa l'ha già chiuso come suicidio, è chiaro? Che cosa? Si è tagliata la gola da sola. E' il miglior amico del presidente. Gli chiederò un milione. Un milione è troppo. Salwa. Chiedine centomila. Il signor Shafiq è un membro del Parlamento. Signore, io so che cos'è accaduto dentro a Hilton. Qualsiasi indagine lo coinvolga diventa un caso di sicurezza nazionale. Perchè. 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 Grazie per la visione!